Siamo a Campo Tizzoro, provincia di Pistoia, immagino, con l'architetto Gianluca che è il direttore di questo magnifico recupero di archeologia industriale che è quello che stiamo vedendo. Gianluca, un'infarinata su dove siamo e come nasce questo posto? Allora, siamo nella montagna Pistoiese, esattamente lungo la strada modenese, quella strada realizzata nel Settecento che collega Firenze e Pistoia con Modena, voluta da Leopoldo. E Campo Tizzoro è il paese fabbrica fondato ex novo nel 1910 dal Luigi Orlando, una famiglia parlimitana che si trasferisce a Genova alla fine, alla metà del 1800 e fonda lo stabilimento di Dalmine. Presta i battiscafi a Garibaldi che guarda caso sbarcano proprio in Sicilia, addirittura è una della dinastia degli Orlando e alla guida del famoso piroscafo dove c'è lo famoso sbarco con Garibaldi. È una famiglia di industriali che hanno fatto praticamente la storia d'Italia. Una volta unita l'Italia, entrano ovviamente come industriali che hanno sostenuto lo sforzo dell'inascente Stato, hanno la missione di industrializzare l'Italia. E lo fanno in una maniera sistematica, impiantando degli stabilimenti produttivi in zone completamente depresse. E la montagna pistoiese all'inizio del 1900 era rimasta al carbone come attività, quindi all'attività del bosco, alle transumanze perché c'era ovviamente la produzione legata alla pastorizia e parecchie migrazioni in Maremma. Quindi praticamente loro vanno a impiantare l'industria pesante, per lo senso della parola, in prossimità del Porrettana, che era l'unica ferrovia che collegava l'Italia dal nord al sud. E loro praticamente dalla mattina alla sera danno lavoro a un indotto fra operai e indotto a più di 40.000 lavoratori. Considerate che era gente che non riusciva a mettere il pranzo insieme con la cena. Una fabbrica tra le cose dove si trasforma in materiale l'ingotto che arrivava in ferrovia, si trasforma dentro e si produce il famoso laminato e la bandella. Cioè sono due sottoprodotti semilavorati su cui viene fatto di tutto. Si fa dai chiodi, si fa le monete, si fa gli attacchi ad esempio le lampadine, si vende il prodotto per altre industrie, si fa delle spiglie da balia, si fanno principalmente proiettili. Perché la fabbrica di Campo Tiziodo, come l'altra fabbrica gemella, nasce di Barga, perché loro fanno anche un altro stabilimento gemello, nasce principalmente per armare le nostre forze armate. Qui si fa il calibro leggero, cioè il piccolo calibro, fino al massimo 20 mm come dimensioni e qui si fa la famosa cartuccia del 91, la famosa fucile che ha fatto la storia d'Italia, un fucile che è stato utilizzato dall'ultima guerra risorgimentale, e perfino fino al 2000, le stesse forze dell'ordine, quando sparano i lacrimogeni, ci hanno un vecchio 91 modificato e tutto. È interessante, direttore, quello che mi raccontava poc'anzi, cioè che costruiscono questo stabilimento che vediamo provvedendo a far sì che nasca tutto all'interno. Cioè la mensa, racconti un attimo questa cosa che è molto interessante. E' chiaro che impiantare un'industria di queste dimensioni in un territorio che non c'era nulla, c'era un campo, campo tizzoro, proprio campo dei tizzoni perché c'erano le carbonelle, si faceva il carbone, richiedeva un'organizzazione importantissima. Si fanno le case degli operai, si costruiscono le scuole, si costruisce l'asilo, si costruisce le menze, si fa nel territorio le fattorie che alimentano la popolazione che lavora in questo stabilimento. Oltre al blocco fabbrica, si fa tutto ciò che un operaio ha bisogno per portare fuori il prodotto. E' quindi una fabbrica che nasce sul filone delle fabbriche ideali, quelle delle utopie realizzate, del fine ottocento, a regime autarchico, nel senso che si produce e si consuma tutto nello stabilimento. Un lavoro prettamente femminile, perché ricordiamoci il lavoro maschile è spostato su lavori pesanti, sulla fornace, sui fabbri, mentre tutto ciò che è la lavorazione per fare le cartucce è un lavoro impiegato quasi da donne, anche perché gli uomini andano spesso in guerra. Le donne potevano lasciare i bambini all'asilo della fabbrica, un asilo innovativo, importante, addirittura c'era il solarium, nei periodi in cui non si poteva andare in terapia, non si potevano per motivi, specie negli anni 40, mandarle alle colonie a Livorno o in Liguria, ad Alberga. Avevano organizzato la marina con la piscina, con la sabbia, con le lampade ultraviolette, e da lì poi iniziava l'avviamento, cioè il percorso che il giovane bambino diventava poi il giovane operaio professionalmente qualificato. Non era il classico operaio da tagliare il bosco, era gente che riusciva a produrre dopo il corso di studi, il professionale tecnico, quindi si parla di avviamento professionale, e poteva far funzionare le complesse macchine importate prima dalla Germania, dalla famiglia Orlando, poi copiate e sviluppate proprio dallo stabilimento. Si produce, tra le altre cose, pensate, siamo nel 1910 con regime di qualità, nel senso che ora noi, questa parola sappiamo benissimo, la tracciabilità del prodotto dalla partenza alla fine, ma qui siamo nel 1910, si sviluppano i calibri, cioè si inventa i calibri di precisione, che per esempio in quell'armadio abbiamo la campionatura, per controllare tutto il ciclo della cartuccia, con tutto il ciclo della lavorazione della moneta, sapere al centesimo di millesimo anche com'è l'evoluzione del deterioramento del materiale, quindi c'è anche il chimico, una fabbrica che tra le altre cose produce energia elettrica, con i motori diesel, che dà energia elettrica all'intera montagna, qui si parla di un'industria avanzatissima, un'industria talmente avanzata che ha cura anche dell'operaio e del dirigente, i giovani ingegneri che vengono a Pisa, perché ovviamente in manovalanza i professionali vengono dalle scuole, scuole parificate, pensate, guardate, questa è una riproduzione di un banco delle scuole professionali, a parte il quaderno con la calligrafia splendida che avevano a quei tempi, guardate gli attestati, gli attestati non c'è scritto sopra Ministero della Pubblica e Istruzione, c'è scritto Società Metallurgica Italiana, una parificata di eccellenza. Quindi con un diploma come questo uno poteva impiegarsi dopo? Esatto, ovunque, non solo, erano talmente ben visti questi tecnici, questi operai, che quando ci fu purtroppo la grossa contrazione industriale del dopoguerra, perché era una fabbrica, è sempre stata una fabbrica da guerra, questa sostanzialmente, ci fu un grosso licenziamento, un grosso licenziamento dove quasi buona parte degli operai furono assorbiti, guarda caso, dall'industria tedesca e belga e olandese, e una buona parte è andata anche in Svizzera, pensate alla Svizzera che non fa entrare nessuno se non tu sei in un certo spessore. Una fabbrica che, tra le altre cose, oltre a fornire da mangiare, come ancora si pensa, se uno entra a lavorare in una fabbrica, normale ci sia una mezza, ma nel 1910 non tutti gli stabilimenti europei era una cosa fattibile. Loro fanno una mezza attrezzata con forni elettrici, fanno il pane, mangi nello stabilimento, hai bisogno dei mobili, c'è la fabbrica di falegnameria in te nello stabilimento che ti fa l'arredamento della casa che è della fabbrica comunque, ti danno anche da dormire, ma a casa è dove c'è i servizi genici, c'è la luce, c'è il gas. Siamo sempre nel 1910, pensate ai primi impianti a gas, Pistoia ce l'ha quasi a ridosso degli anni venti, cioè dieci anni dopo era la città, non la montagna. Una fabbrica che, tra le altre cose, permetteva anche di avere il tempo libero, che è in turno di otto ore, e anche qui altra rivoluzione industriale. Perché all'epoca si lavorava 12 ore al giorno. Si lavorava, loro lavoravano otto ore al giorno, avevano il topo lavoro, avevano la squadra di biciclette, avevano la squadra di ginnastica, avevano la corale imponente, una corale che cantava con delle assegne nella chiesa di Santa Barbara, costruita dallo spavolimento, aveva i campi da tennis. Un industriale illuminato, questo si chiamava. Esatto, esatto. Di Orlando sono stati illuminati, ma lo sono stati anche nella fase finale, quando ho proposto di fare il museo. Allora, noi ci troviamo adesso? Noi siamo nella sala delle caricatrici Fricks Wenner, che sono una delle tante macchine che confezionavano la cartuccia. Il prodotto finale, cioè dove si mette l'ogiva, la pallottola, insieme alla cartuccia e insieme all'innesco, che è la capsula che si mette nella parte inferiore. Non solo confezionava elettri e componenti metallici, ma caricava ovviamente la cartuccia con i granelli di polvere che venivano dallo stabilimento di Livorno. Sono macchine meccaniche a controllo ad olio, alimentate prima con albero di trasmissione a cinghia, poi elettrificate. Pensate, macchine del 1910 che hanno funzionato fino al 2005 per confezionare il 7,62 calibro nato. Da quanto erano precise queste sono andate avanti quasi 100 anni. Ma fino al 2005? Fino al 2005. Che erano perfette, perfette da punto di vista meccanico, avevano raggiunto proprio la perfezione dell'attività di confezionamento. Lavoro prettamente femminile, c'era la donna, scarpa antinfortunistica con gli cioccoli di legno, ovviamente niente calci di nylon, perché ovviamente si poteva con i fuochi dare l'innesco, e guanti di lana, perché ovviamente non si poteva toccare l'ottone, se no il pronto si ossidava subito e si inceppava nell'otturatore del fucile. Quindi abbiamo un ciclo di lavorazione di tutto ciò che viene prodotto nello stabilimento, in particolare l'evoluzione della pallottola, da quella che era prima in piombo puro, al Trattato di Ginevra, che nasce la Croce Rossa, ma si inventa anche la pallottola incamiciata, perché il piombo deve fare più danni, deve salvare, se si ferisce il soldato, il piombo non si deve spappolare. Però cosa si inventa? Nella pallottola incamiciata è un contenitore, quindi si inventa la pallottola incendiaria, il tracciante, l'esplosiva, il perforante, il perforante esplosivo, c'è tutta un'evoluzione legata alla storia della cartuccia. In particolare uno stabilimento all'avanguardia anche sugli inneschi. Qui si inventa le miscele e l'evoluzione della miscela del fulminato di mercurio. Si passa dello stifianato di mercurio, che era corrosivo per gli otturatori ferrossi, ovviamente, si inventano le miscele, fino all'innesco elettrificato per il famoso 20 mm Vulcan, che è quel mitragliatore rotante che utilizzano sempre i nostri eserci di tutto il mondo, che sparano una cosa pazzesca, tipo 8-9 mila colpi in un minuto, e ovviamente non ci può essere un percussore che picchia a martelletto. E loro mettono un innesco a scarica elettrica. Hanno qualcosa come 8-9 mila brevetti, dal punto di vista industriale, quindi sono sempre state all'avanguardia. Allora, quest'altra sala invece è organizzata nella parte del chimico, con l'evoluzione dal 1910, dove c'era proprio il reparto degli inneschi e le macchine a controllo di qualità del peso dell'ogiva. Macchine anche queste qui qua dietro, che vedete, verniciate di verde, ma elettrificate in due fasi, ma sono macchine nel 1910, che hanno funzionato fino a 2005, dal livello di perfezione che avevano. Questo cascava, per esempio, l'ogiva da quella tramoggia in questi bilancieri ad olio, la macchina girava, la cartuccia in base al peso veniva canalizzata nei puntoni e veniva divisa fra il calibro piccolo, cioè quindi leggero, pesante o medio. Quella difettosa veniva scartata e rimandata alla magona. Anche queste macchine, tuttora funzionanti, perfettamente mantenute, e che hanno prodotto pallottole fino a poco tempo fa. Non c'è un filo di ruggine, ovviamente erano bravi fabbri, se si rompeva un pezzo li riparavano. La cosa fantastica è che qua invece abbiamo ancora tre unici pezzi delle fiasche con cui veniva fatto il composto chimico, che una volta disidratato diventava il famoso fulminato di mercurio. Pensate che era talmente incendiario, e instabile, che una volta disidratato lo spostavano nei reparti con la cappelliera, a piccole dose. Partiva uno con questa cappelliera, ovviamente il contenitore tutto di cartone e imbottito, e lo portava al caricamento, dove c'erano le cottimiste, ragazzine con dei sacchetti di seta, lunghi tavoloni, bucavano il sacchetto di seta, e poi infiascavano le capsule, che poi andavano in una pressa e venivano sigillate. Il lavoro che facevano le ragazze dai 12 anni in su. Ciò che ci ha tirato qui da voi è la curiosità che non abbiamo ancora visto, cioè che la fabbrica, il paese fabbrica, per tutelare i suoi 7.600 dipendenti, ha dovuto costruire anche qualche rifugio. Ci risulta che sotto i nostri piedi ci sia un buon numero di chilometri attrezzati per ospitare il paese. Esatto, esatto. È l'unica fabbrica, che adesso stiamo verificando, ma è veramente l'unica fabbrica al mondo, che ha organizzato, nel più esteso, il reticolo di rifugi antieri nel 1930. Non solo per mettere a riparo la forza lavoro, perché era importante avere l'operaio specializzato, per far funzionare la macchina. Le macchine si rifanno, l'operaio no. Ma era talmente organizzato questo tipo di rifugi, che permetteva anche, ed è permesso con il 1944, a ospitare tutto il paese. Quindi più di 3 chilometri di gallerie, quindi quando dico perfettamente attrezzate, perché adesso ne andiamo a vedere, che sono diventate la casa degli italiani in un periodo difficile, fra l'avvento della liberazione di Firenze e ovviamente la famosa linea gotica, che tagliava in due proprio territori. Certo, proprio. Siamo davanti a questo Giva, Gianluca. Questo è uno dei tanti accessi? Sì, è l'accesso numero 8, c'erano 8 ingressi dello stabilimento, ed è il bunker che copre il vano scale che scende giù nei rifugi. Un vano scale elicoidale, progettato come Pozzo di San Patrizio, per agevolare l'evacuazione e l'ingresso e l'uscita degli operai. Suonava la sirena al stabilimento, 5 minuti, 7 mila persone, tutti sigillati sottoterra al riparo. Rifugi alimentati ad aria, con i filtri antigas per la guerra chimica. All'avanguardia. Entriamo? E ti entriamo. Allora, qui troviamo la perfetta organizzazione della fabbrica negli anni 30, quando vengono realizzati questi rifugi. Ogni ingresso ha il suo pronto soccorso, che è perfettamente attrezzato con le brandine. Ci sono i medicinali, tra le altre cose ancora originali dell'epoca, compresi gli strumenti ferrochirurgici. Si trova la cappella per la messa. Ci sono le infermerie, le infermerie che sono uomini e donne. Questi rifugi vengono realizzati, appunto, sempre su iniziativa della famiglia Orlando. E vengono chiamate delle squadre specialistiche, di operai che realizzavano i tunnel per gli acquedotti, per le dighe, dall'Alto Italia e dalla Svizzera. E vengono addirittura realizzati a 25 metri di profondità, centimetro più, centimetro meno, scavando una roccia viva in meno di otto mesi. 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 Grazie a tutti